E' la dea dell'ingegno, è la dea che guida le mani che trasformano la materia in arte. Questo è il simbolo della città di Arezzo. La Minerva è tornata a casa. La statua bronzea raffigurante la dea dell'ingegno, ritrovata ad Arezzo nel 1541, è tornata per un evento unico ed irripetibile, fare da madrina ad una giornata storica per la città dell'oro. Non c'era miglior modo per inaugurare la Casa dei Tesori di Arezzo, un percorso espositivo dedicato alle creazioni dell'orificeria, ospitato a Palazzo di Fraternita. Il Museo della Minerva e insieme con l'esposizione ai gioielli dell'arte oraf a retina, saranno esposti nel Palazzo di Fraternita tutti i giorni, eccetto il martedì, che è il giorno di reposo, dalle 10 della mattina alle 18 della sera, un viaggio nella civiltà retina. A tagliare il nastro il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani ed il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi. Ospitare una mostra di così alto livello in città è un regalo che si fa ai turisti, è un regalo che si fa ovviamente agli aretini e credo che sia giusto valorizzare delle realizzazioni di così alto livello a dimostrazione della qualità della produzione industriale in un settore che ha sofferto negli ultimi anni e che per fortuna sta riprendendo. Questo sarà un polo attrattivo, credo potrà avere una valenza di carattere nazionale, europeo e anche oltre, quindi diventerà un motore di attrazione anche di un turismo che a Rezzo senz'altro si merita. E poi è legato con la manifattura e anche questo sottolinea, mette in evidenza una storia produttiva grande che ha prospettive anche future perché a Rezzo si è saputo riattivarsi nel mondo globale e fare proposte interessanti per l'esport. E poi voglio ringraziare la Camera di Commercio che era depositaria di tutto questo straordinario valore che adesso viene aperto a tutti i cittadini e di cui tutti possono godere.